Ciao amici benvenuti nel mio canale. Ti sarei grato se ti piace iscriverti al canale prima di iniziare il video. Non dimenticare di attivare le notifiche per le ultime notizie. Viola come il mare, con Can Yaman, andrà in onda su Canale 5 in Italia il 14 settembre. Francesca Chillemi accompagna Yaman nella serie prodotta da LuxVide. Viola Vitale, una donna bellissima e attraente che ha lavorato nel giornalismo di moda, torna a Palermo da Parigi alla ricerca del padre, che non ha mai conosciuto. Lì, Violet inizia a lavorare per un editore online di scene del crimine e collabora con l'ispettore Francesco Demir. Francesco è carismatico e seducente, ha molto successo nel suo lavoro, ma ha poca fiducia nell'umanità. Quindi sotto questo aspetto lei è l'opposto di Violet. Estremamente intuitivo negli affari, Demir è anche impulsivo e pronto a piegare le regole. Lavorano fianco a fianco su casi di omicidio, uno come giornalista e l'altro come poliziotto. Dato il conflitto degli opposti, imparano anche a collaborare con successo nel tempo, sebbene all'inizio sia molto difficile. Perché Violet fa affidamento sul suo potere speciale in questo senso, la sinestesia. La sinestesia non è solo una forma del linguaggio, ma una fusione spontanea e incontrollabile di più sensi, come la vista e l'udito. Il viola è in grado di associare le emozioni ai colori. Quando guarda una persona, vede un colore che le permette di leggere le sue emozioni più profonde, possibilmente nascoste, paura, gioia, dolore, Violet sviluppa la sua capacità di cogliere la vera mentalità delle persone che incontra. Ma dietro le quinte della sua sinestesia, nasconde un segreto più grande sul vero motivo del suo ritorno a Palermo.